Il mio più grande sogno, oltre la casa, è poter lavorare in tv, perché so che siamo pronti. Gio Irina, grazie di averci ospitato qua nella vostra casa del signore. Abbiamo fatto una bella chiacchierata a telecamere spente e ho conosciuto, sto conoscendo delle persone, non personaggi, ma delle persone fighe, brave. Perché comunque, io dico sempre, uno vede il personaggio, magari in video può sembrare antipatico, così, invece sono genuini e sta roba mi piace. Io voglio iniziare con voi un po' da lontano. Come vi conoscete? E quando vi conoscete? Io avevo 16 anni e mezzo, lei super giù 13 e mezzo, quindi noi ora a novembre siamo fidanzati da 25 anni. Abbiamo in comune due bambini, nel frattempo una casa, un lavoro. È vero, già questa cosa me la aspettavo io. Mi sono conosciuti cinque anni fa. Quanti venticinque anni fa? 25 anni. Non ci siamo mai sposati. Perché non rientra nel nostro modo di vedere? Perché per noi la priorità è andata sul crearci, sul creare e avere figli. Perché appena abbiamo avuto possibilità di avere casa, di avere la nostra dipendenza economica, insomma, l'abbiamo fatto proprio con la testa. Per cui, sì, 25 anni insieme, due bambini. Catania? Eravate? Ramacca. Abitavamo prima a Ramacca. In provincia di Catania, che è il paese dove è di Malgioglio, a Ture. Nasce con il passeggio. Cristiano Malgioglio, sì. Un guano. Talenti. Poi, scuole le avete fatte qua? No, abbiamo sempre vissuto a Ramacca. Diplomati? Yes. Cosa? Io con il ragioniere. Lo sapevo, non so perché. Perché vi faccio i calcoli. Non lo so. I de mia, i de mia. Anche perché la scuola del paese... Ma la sua scuola l'avete fatto? Sì, sì. Ma è da lì che abbiamo... Ah, dalla scuola. Allora, diciamo che io ero il miglior amico di suo fratello, che ci siamo avvicinati tramite una disgrazia del fratello e anche della famiglia, pesante. Per cui abbiamo accolto questo ragazzo ai primi anni, a scuola. E da lì ci siamo affezionati. Io non sapevo che la ragazza che io stuzzicavo in giro per il paese fosse la salevo. Quando poi un giorno lui mi dice, vieni a casa mia, stiamo un po' a casa mia nel pomeriggio, mi sono ritrovato... Proprio lei. Proprio lei. E quindi tu vai da lei. E appena finisce la scuola cosa fate? Appena finita la scuola io sono andato per l'università al Dams, Bologna, perché pensavo che potessi studiare il dipartimento di arte musica e spettacolo, perché avevo già questa cosa di voler... Però ho visto materie proprio che cozzavano con... Non ne avevo mai visto, non ho mai sentito parlarvi. Ho detto, guarda, io voglio una pratica. Per cui ho fatto un anno, mi sono divertito a Bologna, non ho mai dato una materia. Ho spesso un sacco di soldi. E tu dove eri? Io ero all'università a Catania. Lei pure. L'università a Catania. Poi sono tornato, sono rimasto per l'estate, vabbè, in Sicilia, e poi ho detto, voglio studiare bene sul fattore ballo, quindi sono andato subito a Roma e ho vissuto tre anni. Sì, insieme? O a distanza? A distanza, a distanza. Io salivo, scendevo. E dove nasce la passione e l'amore per la musica? Quando? Nasce quando mi trovavo al quarto superiore, perché durante la festa di Natale una ragazza si era fatta male, per cui dovevo sostituire una ballerina, un ballerina, insomma un componente. Quindi per caso? Sì, io non avevo mai ballato perché avevo 17 anni, mai ballato. Da lì tutti applausi, ti dici, ma sono scemo proprio. E poi è arrivato il carnevale e sono venuto a cercarmi, perché il carnevale lì in paese era molto sentito. Era molto sentito, sì. Sticcare i gruppi e mi dicevano, ma perché io non creo una coreografia a tu? A me piace mettermi lì davanti e spiegarvi cosa potrebbe essere il passetto che mi viene in mente, ma non è che sono ballato, non so ballare. Invece da lì è stato l'inizio. Eravamo in 500, un gruppo di 500 ragazzi e abbiamo fatto ballare 500 ragazzi. Lei ti ha sempre appoggiato? Sempre. La mia prima di me. Hai fatto appagare l'iscrizione. Tutto, ha pagato tutto. No, in realtà la scuola l'abbiamo aperta poi insieme. Io sono stato a Roma, abbiamo studiato, almeno io ho fatto, mi sono proprio formato fortemente sull'hip hop. Una scuola a Roma. Sì, sì, io sono stato tre anni circa, ho studiato con i grandi, c'era Gary, c'era Credit, c'era no, con il moderno sono andato con loro, però io sentivo che non riuscivo bene, non mi esprimevo bene, anche se sono riuscito a capire, a capitare, a studiare. Hai imparato, cosa hai imparato in quell'occasione? In quell'occasione, in quella frangente, su questa disciplina che non è per me, le movenze, la delicatezza, a volte la sensualità, che a volte caratterizza anche un uomo, per credere. Sull'hip hop ero nel mio mondo, perché mentre facciamo finta sui latini le braccia devono essere braccia, nell'hip hop tu hai le braccia che li scompone in quattro, invece nel latino è uno, nel classico è sempre il braccio è uno, nell'hip hop puoi fare le dita, come puoi fare il polso, comito, spalla, petto, condizionato, io lo so scomporre il corpo pezzo per pezzo, è isolarlo, quindi per cui là c'era la delicatezza delle braccia, oppure la coreografia sul moderno che ti dà il senso di video dance, qualcosa del genere, invece sull'hip hop era la potenza. 18 anni senti che è la tua direzione di vita, senti il fuoco. Non mi è più smesso, perché tutte le volte che, sai, nella vita ci sono i momenti giù, i momenti su, stai bene, stai male, però tutte le volte il tuo rifugio, la musica è il ballare, allora capisci che quello è la tua casa. Cioè se io riesco a… io stavo male, sto male, delle volte se so che esce una hit e non ho ancora coreografato, se mi piace. Cos'è per voi la passione? La sento quando ballo, quando mi esprimo, quando faccio la coreografia, quando vedo tanta gente e so che posso dare, trasmettono. Bello, eh. Se mi levi questo tu togli il joy, non esiste. Voglio rifarti una domanda, perché vedo in voi due, sicuramente litigherete tanto, ma è normale. Dopo ci arriviamo. Mamma mia. Ma vedo una complicità e un amore. Quante porte avere una donna a fianco che ti appoggia, ti supporta e ti sopporta? Quando non lo fa, ti rendo una bestia, perché delle volte per motivi familiari, bambini, e vedo che non ho la spalla, l'appoggio, per cui mi tocca coreografare da solo. Non che non riuscissi, però è come se… Manco un pezzo. No, è come se dai la firma, no, per poter far uscire questa cosa. Quindi io aspetto l'attimo di ritrovarci, anche se la coreografia è pronta, prima di fare il contenuto, anche se lei in quel momento non può, devo trovare l'attimo, l'attimo giusto, perché non è facile. Cioè, quello che stiamo vivendo noi è pesante. Abbiamo dei ritmi, poi una casa, due bambini, non è facile. Per cui, quando lei si libera, è come se lei mi desse il via, ok, possiamo ballare. Quanto è difficile a volte distinguere la parte lavorativa, oppure stare insieme? Molto, ma molto, molto complici sul lavoro, tantissimo. Quando ci mi… La spalla dell'altro, veramente. Beh, te… Cioè, noi. Io faccio le cose, lo faccio sapendo che poi lei guarda e mi dà conferma, quindi non è io, tu, faccio io. È noi. 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 Facciamo un passo indietro. Avete aperto quando la prima scuola di ballo? 2004. 2004? 2004. Ho fatto volantinaggio, infatti ho conosciuto Roma nei primi tre mesi meglio di un romano. Quindi lavoravi? Ovvio, come facevo? E che ne so io, vai. Quindi potete fare volantinaggio poi? Volantinaggio, 30 euro al giorno. Io mi facevo tutta la mappa in base all'agenzia, quale mappa… Ho conosciuto in tre mesi tutta Roma, ma pezzo per pezzo, proprio. Nessun pezzo escluso, nessun quartiere escluso. Poi da lì ho visto che dove studiavo io, a IALS, che si trova a Roma, centro, questa accademia erano esposti in bacheca che c'era un nuovo programma chiamato Casa Re 1 con Giletti, la Mosetti, che stava per nascere e cercavano questi figuranti o per applauso o per… ho detto guarda, mi informo. Poi lì, 30 euro al giorno, è seduto, 30 euro al giorno. Si che è caldo, il freddo, i volantini. Ho fatto la prova, perché lì vogliono vederti, è andata subito bene. Io ero col fratello lì a Roma e quindi ci hanno preso subito, ho detto guarda, seduto. Poi tra l'altro ero nell'ambiente giusto, non aspettavo. Ti piaceva? Ti attirava? Cosa ti attirava? Tutto, anche perché poi io dopo tre mesi ho fatto conoscenza di tutto là dentro, mi hanno subito inserito il corpo di ballo. Quindi l'accademia costava, l'affitto non te lo dico, c'era, lo devo fare. E poi, niente, mi sono trovato in mezzo a Casa Re 1 a conoscere un po' tutti e poi da lì, però io non sono uno che si accontenta. Appena vedo che posso dar di più, che posso crescere, ho questa forza di capire. Che posso far di più? Niente, lì mi hanno detto qua sei un burattino, quindi fai quello che ti diciamo noi, non possiamo nemmeno chiamarti per nome. Da lì ho, anche se il contratto era in corso, me ne sono andata. Ho detto guarda, torno alla Mac, abbiamo aperto la scuola. Tornerò a Roma, ho detto, ma col mio nome. Ed è successo. Poi, torni qua, scuola di ballo. Quando, a un certo punto, momento bello, quando nasce il primo figlio. Finita casa, mobili nuovi, tutto pronto. E siamo andati a vivere. Io la prima notte ero lì, la seconda, il secondo giorno gli ho detto, non è per me. Nel senso, ci siamo subito. Siamo sì allo secondo. Secondo giorno, secondo giorno. Ma l'ha vista come una fine. Io poi sono stata lì, abbiamo parlato tanto. Lei mi aspettava sempre. L'ho aspettato, poi alla fine ho detto basta, non ce la faccio più. Stavo per andarmene io di casa. Settembre a novembre è stato tutto ciò. Poi a novembre, fino a novembre, gli ho detto, sai cosa c'è? Voglio un cambiamento forte, voglio avere la mia famiglia completa. E quindi ho chiesto, facciamo Ryan, oggi si chiama Ryan, facciamo i nostri figli. E lei naturalmente ha detto subito no. Però vedi come ogni momento brutto, anche tu dici di depressione, poi porta qualcosa di bello. Ma è stata una tragedia. Lei ha subito detto sì. Perché il mio sogno è sempre stato quello di avere la mia famiglia. Perché ho un passato un po' particolare. E quindi ho sempre desiderato la mia famiglia perché... Non ce l'ha avuta. Non ce l'ho avuta, tra virgolette. E quindi avevo il desiderio di trasmettere amore a qualcuno. Avevo bisogno di una... qualcosa che mi facesse sentire importante. Perché non mi sono mai sentita in realtà importante. Oppure... Non c'era più niente che mi dava lo stimolo per continuare. Ho perso la mamma a 12 anni. Era quella cosa che mi dicevi, ho intuito. Il fratello aveva 13 e mezzo, perché la differenza è pochissima. C'era papà però? Sì, papà c'è. C'è ancora per fortuna, sì. Però beh, ma la mamma è mamma. Poi avevo un fratello di 5 anni. E uno di 13. Quindi è stato difficile. Figura femminile in casa. Mi sono ritrovata da sola. Perché anche se avevo loro intorno, però per me ero sola. Ho proprio bisogno di... Di avere i miei figli, la mia famiglia. Perché sono tradizionalista. Io amo la famiglia. Gli ho sempre detto che volevo 4 figli. Come è stato quel momento? Non lo so, io man mano che ci provavamo nei mesi, poi le delusioni perché non succedeva. Perché lui è una persona. Tutto e subito. Tutto e subito. Quello aspettare, tutti i mesi non succedeva. Sono stato a farmi tutte le prove da... Non sono maschio. Però poi è andata bene. Nasce Ryan. Infatti il dottore dice, ma c'è nulla che non va. Aspettate, vieni. Poi sì, a maggio, quindi poi due mesetti dopo. Lo chiamo, questa la racconto io. Lo chiamo. Gioi, dove sei? Sono in macchina. Senti, devo dire una cosa. Dimmi, cos'è successo? Senti, io sono incinta. E lui... Tu, 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 tu. Il tuo cazzo. Ho detto, no, ma che senti l'epoca? Dopo due secondi mi richiama. Ma per caso mi hai chiamato e mi ha detto che sei incinta? Sì. Tu, tu, tu. Ma scusa di nuovo. La terza volta mi richiama. Non ti alzare, stai seduta. Poi praticamente mi teneva così, come se fossi di porcellana. Mi potevo rompere se toccavo quali cose. Io fumavo, io fumavo lì, in quel caso, e dopodiché mai più toccato. Fatto il fioretto su. Ha smesso, sì, ha smesso. Subito, sono passati già nove anni. Tutta la parte, piancione. Hai fatto le lezioni in cui non mentirà? Ha ballato fino al giorno prima di andare all'ospedale. Sì, ho lavorato tutto il tempo col qualcuno. Io, formatissimo sull'hip hop, ma su altre cose no. Lei mi fa, purtroppo la maestra del balla di gruppo la mattina ci ha lasciati. Che cosa ti serve, Rina? Vogliono tutti quanti la baciata, ma come faccio? Io mi metto lì, la baciata so che è fatta di tre passi punto, tre passi punto. E la monto. E la monto. Sta cosa io gliela monto. Gli dico, guarda, facciamo questa. Proprio chiamato al quadrato perché tu ripeti, passi qui, ti giri, li ripeti qui, sei uguali. E guarda, ascolta, ascolta. La samba, la samba, la samba. Che manca è sta samba? Non sapevo cosa fosse il samba. Il samba. E praticamente sentivo E esce sta corda di fila. Dopodiché esce il tormentone a novembre. Hai, 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 non sa, non sa, assinvo se mi mata. Detto questa corda di fila la devo fare. Quattro milioni di visualizzazioni su YouTube. Capisci? Me l'hanno pure bloccata. L'ho rimessa otto milioni. Il primo video che sono i miei figli? Ah, è bella. Ah, è bella. Quella è stata la prima. Poi c'è, 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 c'è. Da lì ho visto quattro, otto, sei, cinque milioni. Subito, subito, subito. Da lì abbiamo iniziato, non abbiamo mai mollato a... 15 anni fa, quindi ha cominciato a monetizzare anche di là. Sì, 800, poi 1000, 1100. Invece ora non abbiamo 700 cordefi all'attivo dopo 15 anni, per cui ancora monetizziamo, vanno da solo, no? YouTube è stato la tua botta. Allora, YouTube, io ho capito dalle TV che ci chiamano ora, no? Che appena vedono che sei solo su TikTok, per loro sei il momento ciao, non diventerai un personale. Se tu hai Instagram forte e hai YouTube dietro le spalle, perché molta gente con una frase su TikTok subito diventa famosa, però non ha le basi, una gavetta, una conoscenza, non c'è. Quindi è facile diventare famosi su TikTok. Ma, visto il nostro curriculum, la gavetta, curriculum, ci chiamano e noi abbiamo il nostro da dire, perché comunque non ci troviamo impreparati mai. Allora, YouTube è stata la botta forte. Dai primi tre mesi dicevo, ma che è questa situazione? Poi ci siamo abituati e quindi quando poi abbiamo iniziato a essere conosciuti, perché sull'ambito social dance, balla di gruppo, a prescindere da quello che poi nasce dopo con TikTok, noi già giravamo l'Italia da anni. E all'inizio? Anni che giriamo l'Italia, perché andiamo a fare stage di formazione a delle scuole, all'interno di balere. Quindi questo format, dove noi spieghiamo durante una serata un balletto nuovo, che poi registriamo e lo postiamo, ci troviamo a Milano e l'abbiamo sempre fatto. Quello è girato da anni in Italia. Ma perché abbiamo creato comunque una linea di... Ora abbiamo una rete di scuole, per cui che ci seguono, che pagano una piccola retta e mandiamo i contenuti, quindi tutorial, video di spalle, video di fonte e musica. Per cui appena la mandiamo, la scuola ha voglia di avere il materiale per studiare, la dà ai propri allievi, gli allievi vanno poi a ballare ognuno, alle proprie balere, alle proprie piazze, eccetera, eccetera. Quindi ecco come il ballo gioierina va subito a macchia d'olio, perché noi abbiamo dal Trentino a Scigli, agli estremi, abbiamo scuola ovunque. Vi conoscevo già da un po' e quando guardavo i vostri video dicevo, ma come cazzo fanno a riempire i stadietti? Sul video che vedi, per esempio, quello di Mon Amour, che siamo tutti in piazza, eravamo più di bianchi, più di mille ballerini. Cosa vi aspettavate di vederne così tanti? No, ma non ho mai autobus, sono arrivati gli autobus, cioè no, parliamo di centinaia, due, ma sai quello di Sicilia, no? Quello video com'è andato? 5 milioni. Quello in bianco 5 milioni. Tra l'altro avevo fatto montare un maxi schermo per fare proprio a cappella, perché è inutile far cantare l'ho visto lei che bacia lui. Facciamo cosa anche di nuovo, no? E quindi con il maxi schermo ho mandato un modi tutorial, no? A modi, scusami, di karaoke, scusami. Le parole? Le parole e abbiamo tolto l'audio, quindi scorrevano le parole. Il massimo delle persone che avete visto? Siamo arrivati a fare 2.000, però non essendo conosciuto passa tutto come normale o... Dall'estate scorsa avevo già fatto più di 100 milioni sui video Facebook e Instagram. Te l'ho detto, la camicia, quella sudata, quella su Instagram ho fatto 7 milioni, perché il ballo è ok, no? Però il fatto che io mi trovassi sudatissimo, però l'outfit giusto, ero con la camicia, tutto... Il connubio, balletto classificato, sempre gli stessi passi, e lui tutto sudato e fa schifo, ecco quelle cose là. Per cui continuate, vi prego, perché mi piace. Ha fatto sì che poi diventano virali. Come... a proposito di commenti negativi, come all'inizio, come li avevate? Male. Buanzia. Eh certo, male, perché non... Allora, quando poi il volume delle visualizzazioni aumenta, aumenta anche il volume dei messaggi, commenti privati, messaggi privati, commenti pubblici, per cui abbiamo capito che c'è tanta gente sana, ma tanta gente malata. Cioè che deve per forza ferirti, come se avesse proprio la patente per ferirti, e scappare. Fa male, perché noi balliamo, non è che la rubiamo, cioè... Adesso come le vivete? Bene, io rido, io rido. Poi c'è gente ultimamente che si permette di entrare nella mia sessualità, no? Joy, secondo me è gay, non lo sa. Vabbè, se lo sai tu. Sai cosa mi dispiace di tutto questo? Solamente una cosa, mi dispiace che mio figlio legge. E quando legge un commento dove dicono alla mamma sei una cessa, non ci rimane bene. Allora io cerco di spiegargli e di fargli capire che comunque ci sono anche persone cattive che magari invece di andarsi a fare una passeggiata si passano il tempo ad insultare. Chi mi copia, anche se copia vuol dire un format creato da noi che funziona, vuol dire che hai voglia di copiare, insomma, c'è tanto da copiare, vuol dire che valiamo di più, però un po' mi dà fastidio, no? Sì, un po' mi dà fastidio, cioè, crea qualcosa di tuo piuttosto che andare a rompere le palle, a creare sempre le stesse cose. Già esiste gioierina, il mondo non ha bisogno sui social di entri di altro. A volte le persone associano a voi e poi la canzone, incredibile. Sì, questo è vero, questo è vero. Vi ha portato ad oggi ad avere collaborazioni incredibili. Sì. Dici anni fa te l'aspettavi. Ma quando mai? Ma nemmeno sei mesi fa me l'aspettavo. Perché comunque, su questo settore, un po' di nicchia, hai gente che va dai trent'anni in su, riuscire ad arrivare ai giovani, per me il successo più grande è stato proprio questo. In crociera? Siamo stati in crociera? Stasettimana c'erano ragazzi proprio giovani, ventenni, che appena ce l'ho visto, hanno fatto i TikTok. Vieni qua, abbracciami. Si sono divertiti. Prima questa cosa non esisteva. Mi fa sentire questa roba. Bene, bene, perché vuol dire che abbiamo trasmesso belle cose, abbiamo trasmesso allegria, gioia. C'è gente che ci scrive, sono malata da anni, non riesco ad alzarmi dal letto e io vivo aspettando i video, perché con voi sono fuori. Ad esempio, noi eravamo in Ibiza, a Marsiglia, eravamo a Valencia. Per cui, io so che c'è tanta gente che ci aspetta che magari facciamo compagnia. A parte quello che succede poi dal vivo quando ci incontrano, giusto? So che a casa mi trasmettiamo tantissimo. Adesso con chi collabori? Chi ti chiama? Quasi tutti, da Universal, con Sony, la Warner, la Warner, sì. Sì, collaboriamo con Alex Britti, con Elettra, perché ormai abbiamo l'esclusiva, perché ormai si balla solo Elettra. Tony F, con il brano di Tony FM, Hashtag sulla nostra nipote, abbiamo Wundabash e Paola Chiara, fresca, fresca. Bellissimo, sì, siamo felici. Però questa cosa, c'hai sempre creduto il momento peggiore della tua e della vostra vita? Dicembre 2021, perdo un pezzo del mio cuore, una persona importantissima, per via del Covid, ricoverato cinque mesi, ci speravo. Io sono molto, non l'ho vissuto, fino a quando poi ha fatto il compleanno mio figlio. Dopo tre mesi ho iniziato a capire che qualsiasi cosa vedessi, qualsiasi cosa, anche quando camminavo per strada, ero un amico del cuore, una persona grande, che negli anni, lui c'è sempre stato, da quando aveva aperto la prima scuola di ballo, era sempre stato il mio primo sostenitore. Per cui, nel momento in cui sbarellavo, avevo momenti no... Lui sapeva prenderlo e metterlo in equilibrio. Tu sei Joe Di Stefano, ma tu ti rendi conto che non puoi metterti a paragone con nessuno, vai avanti. Poi, quando gli ho detto che mi stava stretto la maca, vattene, vai via da la maca, hai le capacità per andare via, cerca di essere forte, cioè tu sei Joe Di Stefano, è sempre così. Io cinque volte al giorno so dov'è, perché si dice che quando vedi i numeri doppi, accanto a te c'è un angelo, e quindi so chi è. In me c'è il momento più bello? Sono due, indimenticabili. Anche se devo dire che questa botta di... di questo cambiamento forte mi sta rendendo molto felice. Ci alziamo con un altro umore, con la voglia di spaccare di nuovo, perché so che vi stanno aspettando. Vado a guardare le notifiche immediatamente per vedere quanta gente con la spunta blu ormai ci segue. Quando la gente vede i vostri video non vi sente parlare, vi vede ballare. E sentirvi è tutta un'altra cosa, perché magari tu puoi avere una faccia antipatica e non ti sento parlare, anche lei può avere... Sto generalizzando. Però chi sente queste cose che magari non le ha mai sentite, secondo me deve sapere la storia, deve sapere che ci sono due persone dietro. Mi piace essere persona comunque, a prescindere che molti ti danno quell'etichetta che per forza la nostra convinzione nel saper fare il nostro lavoro passi per forza, per mondati. Cioè prova tu un attimo a vedere, gioierina, non convinti del proprio lavoro se avesse avuto lo stesso effetto. Sono una persona molto chiusa. Insicura. Insicura. Lei che è bella. No, 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 vabbè, ok. Che ha dei lineamenti, non è rifatta ragazzi, cioè parliamoci chiaro, il nasino pulito, stizzì come... Dichiarazione d'amore? No, 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 io glielo dico perché comunque non ha bisogno che glielo dica io. E lei invece, faccio schifo perché la gente vede e non mi apprezza, e perché io se mi metto sto pantalone si vede la pancia, lei la pancia. Che non l'ha avuta nemmeno quando era incinta, no? Si vedeva perché... Quindi quest'attimo di insicurezza, perché la gente a volte la mette a KO, mi dà fastidio. Io invece ci rido su, perché so che ho l'orecchia a punta, ho i punti sul labbro superiore, il naso deviato qua, le sopracciglia che fanno cagare. Io sono questo, per cui se arrivo al pubblico, arrivo così come sono. Quindi non è che devi dirmi tu, già mi accetto con i difetti come sono. Lei purtroppo ha delle volte sta cosa, mi dà fastidio. Riesco ad esprimermi comunque attraverso il ballo, per me ballare è essere me stessa. Quindi se magari c'è la canzone, ti faccio la smorfia col viso, è perché io in quel momento mi sto divertendo. Invece le persone vedono che sono montata. Il vostro più grande sogno? Il mio più grande sogno, oltre la casa, bella casa, è poter lavorare in tv, perché so che siamo pronti. I sogni sono contagiosi, si dice. Con questo entusiasmo, con questa cazzimma, la chiamo la cazzimma io, sicuro ce la fate. Ma perché? Io credo che dopo questo podcast le persone capiscono un po' di cose che prima non capivano. È bello sapere quello che avete raccontato, è bello vedere questa convinzione, questo amore. Alla fine lavorate 24 ore su 24, non ci sono orari. Due figli, ricordo. Non facciamo maniare nulla prima a loro e poi appena loro, facciamo ad esempio la notte, noi ci mettiamo sul divano e completiamo le cose. Non è che ci mettiamo lì col cellulare e trascuriamo, non può esistere questa situazione, anche perché abbiamo due figli tosti, più di mamma e papà, per cui troppo esigenti. Noi ormai sappiamo organizzarci. Prima vengono i bambini, le proprie esigenze, le cose. E poi noi anche se non dormiamo va bene. Io li trovo sul divano, che li svegli poi la mattina sul divano, però è anche vero che questo è. È bello quando la parola lavoro è la stessa cosa della passione. Io metto avanti l'entusiasmo di un nuovo progetto, piuttosto che una nuova musica, devo arrivare il primo di tutti, perché ha voglia che si mettono lì ad anticipare chissà che cosa. Io se posso farti un esempio, così chiudiamo, ho detto voglio fare le coreografie solo se l'artista è interessato a gioierina o l'etichetta. E quindi abbiamo questa collaborazione perché è nata un interesse anche da parte loro. Non avevamo ancora ricevuto la telefonata, diciamo, da Bunda, Bascia e Poli, Chiara, che stimiamo tanto tutti. Ho detto vabbè, vuol dire che non... invece, eravamo in crociera, sta telefonata, ci ha lusinato in molto. Cioè nel senso, l'aspettavamo. Io penso una cosa, mi avete fatto ragionare, noi abbiamo anche l'agenzia di marketing, però io che sono un artista e voglio lanciare anche un brano, mi deve piacere gioierina, ma voi siete un velocizzatore, cioè se io lo lancio io faccio 100, se lo lancio con voi faccio 5 milioni, cioè capisci che... Ti posso dire che in questo momento TikTok è un po' fermo, perché credo che l'algoritmo ormai si stia abituando, ora poi cambia e riaumenta tutto. Quando abbiamo buttato fuori il trend bellissima e poi subito dopo Mon Amour... Quanto avete fatto dei numeri? 230 milioni? Sì, praticamente trovavamo, perché mai è passato un po', sull'analitica del nostro canale TikTok, sto parlando solo di TikTok, 18 milioni ogni sette giorni, quanto fa? 36, 72 milioni al mese. Ok, ora invece il canale è un po', l'algoritmo si è un po' rallentato. E sono andato a vedere ieri un po' l'analitica, ho visto che nonostante sia normale, quasi fermo, fa 9 milioni a settimana. Detto ciò, in 9 milioni a settimana riesco a farlo. Per farti capire che stiamo parlando di più di 35 milioni al mese di visualizzazioni, di persone che entrano nel canale e vede. Per un'artista che vuole lanciare il brano un po' qua, un po' alla volta, dato che portiamo in giro il brano mesi, fa comodo. Fa comodissimo, infatti a livello tecnico di marketing, chi lo sta capendo, ma guardate i numeri che stanno facendo, cioè nel senso, non facciamo nomi, però lo lanci un velocizzatore incredibile di risultati. Noi abbiamo preso l'italodisco con Stasce che ci vuole un sacco. Anche quella è un'altra canzone che ho scoperto per voi. Stasce merita, merita il nostro cuore. Una persona meravigliosa. Sì. Stasce meravigliosa. Uno degli artisti che ci ha dato il brivido, perché poi Napoletà è vero, poi ce lo dimostra, che bella sta cosa. È quella cosa bella. Io penso che la ricchezza non sia in soldi, ma sia umana. No, io gli ho detto lei, io voglio lavorare con l'umanità. A me, se mi metti davanti i soldi e non vuoi avere rapporti con me, io sinceramente se oggi o se domani ho più forza di poter evitare queste cose, se ne voglio evitare. Andiamo in chiusura, anche se sarei qua tantissimo tempo, e volevo ringraziarvi di cuore, perché veramente due persone terra a terra. Ma bello, ce ne so, normale. E la cosa più bella per me, uno, oggi aver imparato, aver imparato, aver ascoltato, aver condiviso un momento, che ringrazio il tuo amico perché è stato toccante. Prima di essere personaggi, siamo persone. Grazie ancora ragazzi, grazie perci ospitato qui. Ciao a voi. Grazie. Grazie.